Buona giornata, proseguiamo con gli ultimi aggiornamenti sulla crisi di governo, le dimissioni di Conte, le consultazioni. Bonetti dice non abbiamo aperto alcuna crisi ma dato un grido d'allarme sulla crisi del paese, lo dice Elena Bonetti di Italia Viva ai microfoni di Radio anch'io. Abbiamo scoperchiato una situazione di criticità che non era più accettabile, ha affermato. Bonetti ha anche spiegato come si sta organizzando il partito in vista delle consultazioni. Stasera avremo una riunione con i parlamentari con cui ci confronteremo come abbiamo fatto in tutti i passaggi di questa crisi. Decideremo insieme la linea da porre e da portare al colle. Intanto si costituisce al Senato il gruppo europeisti maie centro democratico. Si è ufficialmente costituito al Senato il nuovo gruppo europeisti maie centro democratico. Ne fanno parte i senatori Maurizio Buccarella, Adriano Cario, Andrea Causin che è il vicepresidente, Saverio De Bonis, Gregorio De Falco, Raffaele Fantetti che è il presidente, Gianni Marilotti, Riccardo Merlo, Maria Rosaria Rossi e Tatiana Roic. Lo ha annunciato nell'aula di Palazzo Madama il presidente del Senato Elisabetta Casellati. Una maggioranza di europeisti costruita su punti di equilibrio. Lo ha auspicato ai microfoni di radio anch'io il ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e il PD, ha sottolineato il ministro, vede come punto di equilibrio questa nuova maggioranza larga e solida con un programma di fine legislatura. Il presidente Conte. Questo gruppo per adesso non ha cambiato i numeri. I numeri della maggioranza sono sempre gli stessi solo che dal gruppo misto sono passati a formare questo partito perché gruppi parlamentari è un sinonimo di partito. Gianni dice oggi il capo dello Stato avvierà le consultazioni. Ripongo nel presidente della Repubblica la massima fiducia, convinto che con saggezza potrà indicare la strada migliore per il nostro paese, scrive su Facebook il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Bellanova dice non c'è solo Conte. Abbiamo detto che non mettiamo alcun veto e non subiamo veti, ma non c'è solo Conte. Così l'ex ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova di Italia Viva ospite di Studio 24 su Rai News 24 e aggiunge l'attenzione è massima sul programma, sottolinea Bellanova. Io aggiungerei che l'attenzione è massima su poltrone, stipendi e nient'altro. Ecco, tutto il resto è solo specchietti per le allodole. Mentre Romani dice per ora mi pare che non cambi nulla, per eventuali novità bisogna aspettare. Venerdì lo dice Paolo Romani, senatore di Cambiamo, rispondendo a una domanda sulla situazione al Senato dove si riaccende il dialogo con i possibili responsabili barra mercenari dopo l'appello Facebook fatto ieri sera dal premier dimissionario Giuseppe Conte. Intanto della vedova di più Europa dice serve un altro premier, l'idea di affidare le sorti del governo che affronti con efficienza la più grande vaccinazione di massa e investa per le prossime elezioni ma per le future generazioni 209 miliardi di risorse europee a un gruppo etereogeneo e litigioso di 9-10 senatori impegnati in una legittima ma sgangherata operazione trasformista imbellettata dalla nobile etichetta di europeisti per il conte terzo. Dice tutto sulla necessità di un altro premier e un'altra più ampia maggioranza. È possibile, si provi, si faccia, lo afferma il segretario di più Europa Benedetto della vedova. Intanto Binetti dice che il Parlamento viene umiliato. Siamo a disagio a dover esaminare oggi un decreto legge che ha già espletato i suoi effetti e che pertanto è vecchio, superato. Quando noi opposizioni chiediamo di collaborare nei fatti significa intervenire nei processi decisionali ed invece questo decreto arriva ancora una volta blindato. Dice in aula Paola Binetti durante la discussione al Senato sul decreto legge natale c'è solo da chiedere e sperare che il prossimo governo qualunque esso sia lavori in modo diverso evitando di umiliare il ruolo del Parlamento aggiunge la senatrice. Intanto la direzione del Partito Democratico viene spostata alle 16. Spostata a causa di votazioni in Parlamento. Lo rende noto l'ufficio stampa del Partito Democratico. La relazione del segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti sarà trasmessa in streaming sulla sua pagina Facebook e sui social del Partito. Mentre De Micheli dice che gli europeisti devono essere nel quadro della Costituzione. L'operazione degli europeisti, gruppo appena annunciato al Senato, includendo anche Maie e Centro Democratico, si inserisce dentro il quadro che la nostra Costituzione ci dice. Così la ex ministra per i trasporti, ancora facente funzione, ministro dei trasporti Paola De Micheli del PD, ospite di Studio 24 su Rai News 24, dice Conte è un punto di equilibrio di una maggioranza complessa. Ora bisogna percorrere la strada per vedere se ci sono le condizioni per una maggioranza allargata, dice la De Micheli. Credo sia un arrivederci, ha detto la ministra riferendosi all'esperienza di governo e sottolineando l'importanza dell'alleanza che abbiamo costruito e reso sempre più omogenea tra PD, 5 Stelle e Leo. Beh, l'importanza di un'alleanza di nemici che era nata per impedire a Salvini di governare. Grande alleanza. Insomma, interviene anche la Gelmini di Forza Italia. È Forza Italia che dice non chiediamo il voto ma governo di unità. Quindi Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, si smarca dall'appello del leader della Lega Matteo Salvini. Forza Italia andrà alle consultazioni del presidente Mattarella con il centrodestra. Ma è chiaro che delle differenze ci sono e noi le rivendichiamo. Noi non abbiamo mai chiesto le elezioni. Noi abbiamo da subito, come il presidente Berlusconi, parlato di un governo di unità sostanziale. Abbiamo da subito messo al centro le esigenze del Paese. Gelmini spiega che gli azzurri si aspettavano da parte della sinistra un'apertura, apertura che non c'è stata. Preferiscono litigare sul Conte III, su Franceschini o Di Maio e nel frattempo perdere tempo. Servirebbe invece un nuovo progetto e una forte discontinuità rispetto agli ultimi due governi. Questo è importante. Non chiediamo voto ma un governo di unità. Questo è importante, molto importante, perché qui si spacca il centrodestra. E qui è importante perché loro hanno detto nei giorni scorsi che anche la Lega ha governato con i 5 Stelle, noi siamo rimasti all'opposizione con Fratelli d'Italia e siamo comunque rimasti centrodestra. Questo è importante. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Grazie.